Oggi nella sala del Consiglio Comunale si è tenuta la cerimonia conclusiva dell'iniziativa de TAPUM, il Cammino della Memoria, l'iniziativa commemorativa che ha visto due spedizioni storiche di alpinisti ed escursionisti civili e militari, dallo Stelvio al mare, da Trento a Trieste, lungo il fronte della Grande Guerra, e portare a compimento assieme il loro cammino di oltre 1.800 chilometri, 120.000 metri di salite e discese, 200 cime montagne e 300 comuni, poco prima della cerimonia, alle 11.30, i partecipanti sono stati a conto dal sindaco di Trieste, Roberto Cusolini, davanti al municipio. Subito dopo si è tenuta la cerimonia nell'aula con i saluti dell'autorità, il sindaco Cusolini, il presidente Saracchiani, il generale Flavio Godio, comandante della divisione Friuli, il presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Universiari di Interesse Nazionale, il senatore Franco Marini, in memoria dei luoghi della sofferenza a Grande Guerra, rivolgo il benvenuto a tutte le autorità intervenute, alla presidente della regione Friuli Venezia Giulia Saracchiani, al presidente Marini, al generale Godio, detto il sindaco di Trieste, Roberto Cusolini. Questa è una delle più belle, tra quelle che in ricordo, come iniziativa sui centenari della Grande Guerra.